Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, oggi andiamo a vedere come comandare Arduino tramite un'interfaccia grafica da computer. Una cosa che davvero la prima volta che l'ho fatto a me ha stupito, stupirà anche voi e soprattutto lo potete usare in moltissime situazioni. Forse questo sarà il primo di una lunga serie, ma devo vedere prima se vi piace, perciò iniziamo subito. Allora, come programma per la comunicazione andremo a usare Visual Studio. Visual Studio, se non sapete come scaricarlo è molto semplice, poi quando vi chiederà di installare i pacchetti, diciamo, dovrete installare questo qui che vi ho messo in sovraimpressione. Perfetto. Fatto questo, non dovete fare altro che andare a creare un nuovo progetto. Quindi cliccate su Create a New Project, poi andate qua su e selezionate in linguaggio. Andremo a usare il C Sharp, che è un programma molto semplice. Andiamo a cliccare su Windows Form App, Next, e andiamo a creare Prima Accendi e Spegni LED. La andiamo a mettere in una cartella, che sarà la cartella del nostro progetto. Quindi Accendi e Spegni Sharp. Sharp sta per C Sharp. E poi basta. Andiamo su Create e nel giro di pochi secondi ci creerà una vera e propria interfaccia di lavoro per creare la nostra applicazione. Ovviamente dopo dovremo aprire anche l'Arduino IDE, che l'avete visto tra l'altro un minuto, un secondo adesso che è apparso. Ovviamente andremo a usare sempre su Arduino la comunicazione seriale, quindi andiamo ad aprire un nuovo sketch di Arduino. Ve lo ingrandisco un pochettino e andiamo a scrivere subito sul web setup Serial.begin e 9600 bit per secondo. Facciamo sempre Ctrl R per verificare. Adesso abbiamo già abilitato la comunicazione sul nostro sketch per tenerla bene a mente. Cosa importante da vedere? Andare su Strumenti e vedere a che com che porta è connesso il nostro Arduino. In questo caso io ho un Arduino Mega qui sul tavolo. Perfetto. Ora ritorniamo sul Visual Studio e come vedete questa è la nostra finestra. Se non avete mai visto Visual Studio questa è la nostra finestra. Possiamo cambiare i parametri, la possiamo allungare, rimpicciolire e tutto. Andiamo sulla Toolbox. La Toolbox non è altro che un contenitore di oggetti che possiamo mettere nella nostra finestra. Perciò possiamo vedere appunto i bottoni, le caselle, diciamo, della spunta. Quello che ci serve a noi adesso è abilitare, come abbiamo fatto su Arduino, la comunicazione seriale anche sul form. Quindi scriviamo Serial Port e lo trasportiamo. Ma dov'è? Non c'è. Non si vede nella nostra schermata. Perché quando, come tutti i programmi, ci sono delle cose nascoste che noi non vediamo. Infatti viene apparsa qui sotto. Noi la clicchiamo e sappiamo che il nome è Serial Port 1. Quindi dobbiamo tenere bene a mente. Bud Rate di 9600, che è quello che abbiamo settato anche su Arduino. E poi, 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 dobbiamo andare a modificare la COM. Infatti non è COM 1 il nostro Arduino, è collegato alla COM 6. Perfetto. Che cosa è cambiato in tutto questo? Beh, ora ve lo mostro. Perché comunque noi adesso abbiamo la nostra pagina in cui creiamo tutta l'interfaccia bella, ma dietro c'è sempre il codice. Infatti dobbiamo andare su View e dobbiamo andare su Code, oppure premete F7 sulla tastiera. Ci aprirà questa bella schermata che poi andremo ad utilizzare. Come vedete, ci sono i comandi. Diciamo che adesso la nostra pagina, la nostra finestra, non fa niente. Perciò dobbiamo andare a scrivere. Quindi subito dopo Public Form 1, che sarebbe il nostro form. Come vedete, Form 1. Se questo form si chiamasse Ciao, qua ci sarebbe scritto Public Ciao. E subito dopo la scritta Initialize Component, che appunto inizializza tutti i componenti all'interno della nostra finestra, dobbiamo andare a inizializzare la comunicazione seriale, quindi USB e tutto, tra Arduino e il computer. E più che altro questo programma. Perciò dobbiamo andare ad aprire, in un certo senso, la porta seriale. Immaginatevi proprio una porta. Dobbiamo andare ad aprire la porta in cui passano i nostri dati. Quindi Serial, Port 1, poi premiamo Tab e poi scriviamo Punto, Open. Con la scritta Tab possiamo accettare tutti i suggerimenti, che in questo caso sono giusti. E appunto abbiamo aperto la nostra porta seriale. Il nostro obiettivo è quello di avere un pulsante che accende il LED e un altro pulsante, casomai che spegni il LED. Quindi torniamo nella nostra scheda Design e andiamo a prendere appunto sempre dalla toolbox dei bottoni. Quindi Button, oddio, ho scritto malissimo, Button, Button 1 e poi facciamo Ctrl-C, Ctrl-V, Button 2. Vedete? Se non sono allineati vi basta premere il primo, che sarebbe quello che poi rimane fermo, premere Shift sull'altro e qua ci sono i bottoni di allineamento. Quindi io gli dico che si devono mettere in fila. Li porto, diciamo, all'inizio del form, quindi uno qua, uno qua e li ingrandisco anche un po' per le dimensioni del mio schermo. Li faccio della stessa misura. E adesso vado a modificare i parametri dentro qua. Infatti qua, cliccando, abbiamo la tabella Proprietà. Perciò Back Color, vabbè, tutte le cose stilistiche poi ve le decidete voi. L'unica cosa che voglio fare è mettere Bold 12 per aumentare il carattere. Poi scendo giù nella scritta Testo, che non vuol dire niente, è solo appunto il testo visualizzato, gli dici Accendi. E gli dico Accendi LED. Ecco, LED non entra, perciò dico solo Accendi, diciamo, per risparmiare. Fatto questo, gli vado a dare un nome anche, perché questo nome è quello che poi ci servirà nel codice. Gli dico Pulsante di accensione. Vado nel bottone 2 e faccio le stesse cose, ovviamente. Quindi abbiamo detto qua Bold 12 nella tabella Font, nella scheda Proprietà. Poi ci sono tutti i dati di Estetica che vi potete modificare, come ho detto prima, come volete. Il Name, gli dico Pulsante di spegnimento. E nella scritta Text, gli dico Spegni. Perfetto, adesso abbiamo settato questi due pulsanti, che sono i due, diciamo, unici pulsanti della nostra finestra per ora. Noi potremmo andare nel Form e dire, e creare una funzione, come se fosse un If, come se fosse, se premo quello allora accade questo. Ma perché dobbiamo farlo se Visual Studio ce lo fa fare in automatico. Infatti noi creiamo, clicchiamo proprio sul pulsante, due volte, e ci crea questo Private Void. Quindi un Void, un contenitore di informazioni, di comandi, vanno in esecuzione quando, quando, pulsante di accensione, click. Quindi quando, andiamo a premere con il nostro pulsante. Ci sono diverse impostazioni. Qua invece di click possiamo mettere, per esempio, quando passiamo con il mouse e non lo clicchiamo. Ma adesso non ci andiamo a complicare la vita. Appunto, dentro questi due parentesi graffe, proprio come in Arduino, perché tanto il linguaggio è C, quindi lo stesso di Arduino, andiamo a scrivere quelli che sono, appunto, quello che vogliamo far fare. Ora, il programma funzionerà così. Noi quando clicchiamo, quindi pulsante di accensione, click, allora dovrà mandare una lettera, un, diciamo sì, si usano sempre le lettere. Per esempio, possiamo far mandare una A grande per l'accensione e una S grande per lo spegnimento. A, accensione, S, spegnimento. Lo manda verso la porta seriale 4. Arduino poi la leggerà e quindi, appunto, farà accendere il LED oppure tutto quello che metteremo nell'IF. Quindi scriviamo. Prima di tutto mettiamo un commento. In questo loop manda una A grande per spegnere, per accendere il LED alla porta seriale. Quindi andiamo a fare serial port 1, che è la nostra serial port, possiamo mettere anche più serial port, write. Gli mettiamo, tra parentesi, proprio il carattere A. Non è un comando, è proprio una cosa. Qua ci potrei scrivere ciao. Mentre gli mettiamo, per semplicità, una lettera A. Perché poi quando si inizierà a lavorare con le stringhe, con le stringhe, nel senso con le linee di ogni seriale, poi mettere più lettere diventa complicato. Cioè non complicato, perché poi dovremmo dire che deve prendere valori dalla terza lettera in poi, dalla quarta lettera in poi. Poi invece se mettiamo solo una lettera, quindi abbiamo una possibilità da 0 a 26, oppure da 0 a 9 se parliamo di numeri, poi dovremmo dire di prendere quel valore dalla seconda lettera in poi della stringa. Ma poi ci arriveremo nei prossimi tutorial, caso mai. Ovviamente in C, dopo tutto, si mette un po' di virgola, perché senza quello non si va da nessuna parte. E per questo abbiamo fatto. In realtà è finito. Dobbiamo andare solo nella tab spegnimento, fare il doppio clic e ci crea appunto questo private void. Pulsante di spegnimento, clic. Quindi quando premiamo il percento di spegnimento, gli diciamo di, sempre con il doppio slash, gli diciamo, manda una S grande per spegnere il LED alla porta seriale. E gli diciamo la stessa cosa, serialport1.write, poi gli diciamo tra le virgolette, oddio come si mettono le virgolette, ah sì, S, e poi andiamo a chiudere. Per Visual Studio abbiamo fatto. Ora dobbiamo andare a lavorare sull'Arduino IDE. Infatti dopo aver detto serial begin 9600 andiamo anche a dire pin mode 13 output, è inutile che ve lo spiego, questo comando, se conoscete un Arduino, praticamente setta il pin 13 come un pin digitale di output, quindi 0, 5 volt. Perfetto. Poi dobbiamo andare a creare due variabili, cioè una stringa e una variabile. Quindi andiamo a scrivere string, dicevamo, andiamo a creare una string per mantenere, per memorizzare in questa stringa, quindi è proprio una stringa, lunga, una linea, diciamo, di comando ricevuto, di dati più che altro ricevuto, e la scriviamo per esempio dati, appunto. E andiamo a chiudere. Poi andiamo giù e andiamo a creare una char, primo carattere, primo carattere, per intenderci, che memorizza solo il primo carattere di quella che è la nostra stringa. Nel void loop andiamo a scrivere sempre la stessa cosa che si fa nella comunicazione seriale, ovvero se serial.available, quindi se la porta seriale è disponibile, allora apriamo le parentesi e creiamo un if. Vogliamo mettere tutto quello che sta leggendo nella stringa dati, quindi scriviamo dati serial.readstring, quindi dentro la stringa dati vanno tutte le cose che, tutta la stringa diciamo che c'è in quel momento nel monitor seriale, possiamo dire, apriamo e chiudiamo e punto e virgola. Quindi adesso dati, la stringa dati, conterrà i dati appunto del seriale. Poi andiamo a prendere primo carattere e diciamo che è uguale a la stringa dati carattere a, qui si scrive char at 0. Questo comando che cosa fa? Da alla variabile, cioè al char primo carattere, della stringa dati, solo il carattere che sta, solo il primo carattere, quindi coordinate 0 possiamo dire. Ora noi dobbiamo lavorare solo su primo carattere. Quindi riprendiamo un altro if e gli diciamo se primo carattere uguale uguale a una A grande, che vuol dire acceso, allora digital write 13 I. E quindi questo è il primo if, gli diciamo se il primo carattere è uguale a A, come avevamo detto anche in Visual Studio, allora mi devi accendere il LED 13. Poi gli diciamo else, quindi se invece se, quindi else if, gli diciamo primo carattere uguale uguale a S di spento, allora devi digital write 13 low, devi andare a spegnere il digital write 13, controlliamo sempre tutte le parentesi, andiamo a fare verifica e ci dice che ci manca una parentesi, va bene, la mettiamo, poi andremo a capire dove andava, perfetto. Andiamo a caricare sul nostro Arduino, torniamo in Visual Studio e abbiamo con il pulsante start il nostro programma, quindi start. In questo caso ci dice la porta 6 non esiste, ma è molto strano perché io ci ho appena caricato il programma, infatti ho scritto male, quindi ritorniamo sul Visual Studio, andiamo qua su serial port, andiamo prima di tutto interrompere quello stop. Andiamo su serial port 1 e diciamo com 4. Ok, proviamo a fare ripartire, perfetto. E adesso vi mostro che sul mio Arduino, vedete, vado a premere accendi e il LED si accende, vado a premere spegni e il LED si spegne. Riproviamo, accendi, spegni e perfetto così. Abbiamo appena creato un'interfaccia grafica, ovviamente adesso guardate com'è brutta che si interfaccia, bruttissima, soprattutto se la metto a schermo intero che è proprio brutta. Però ovviamente su internet potete trovare un sacco di tutorial che fanno interfacce belline, tipo questo tutorial qua, che appunto fa una cosa bellissima, ovvero mette tutte le cose in ordine. E poi io devo vedere se vi piace questo argomento, se vi piace farò altri video anche sul design, perché così, guardandola così, forse è meglio fare quei pulsanti su Arduino. Io vi ringrazio tanto per la visione, ci tenevo tanto a fare questo video anche perché me lo sono un po' studiato. E niente, ci vediamo mercoledì prossimo, se riesco.